green blue days il progetto che promuove la cultura dello sviluppo sostenibile attraverso una visione integrata è il tempo della rinascenza personale e collettiva con una nuova visione del mondo sostenibile e inclusiva perché siamo tutti chiamati al rispetto per la vita l'uomo e la natura green blue days vuole andare oltre il dialogo con la volontà di diffondere la cultura del green bene comune sostenibile generatore del vero cambiamento partendo dalle nuove generazioni sappiamo che i nostri primi passi verso un mondo migliore sono stati green i prossimi saranno blu anche attraverso l'innovazione e la trasformazione digitale trasformiamo le parole in cambiamento grazie a tutti 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 grazie a tutti